Prima professione ottima da parte mia, il direttore che mi conosceva, quindi sappiamo benissimo chi ci porta in Alessandria. Sono straconvinto che si può fare un salto di qualità ancora superiore, umano e tecnico, per ragazzi che ci aiuteranno, aiuteranno un ottimo gruppo di persone, quindi si troveranno immediatamente bene, potranno lavorare in un ottimo gruppo e quindi ci daranno il massimo che devono darci per poter far bene e continuare a far bene come comunque fino ad ora abbiamo cercato di fare.